aggiungi anche tu su instagram oh si salve napoli 2 napoli 2 accusi segna rog segna rog 3 a 1 napoli 3 a 1 coromi 3 a 1 oh adiu alle 2 di notte seguite sora ma mamma maria scoppa instagram perché sei più forte segui segui follow marì com'è andata stasera mi ha spaccato posto san salvo marina stanno ancora a lucan tra le rovine che hanno beccacioni solo polvere pure